I tre grandi tenori festeggiaranno insieme il centenario dell'opera lirica di Arena di Perota. Il grande evento è fissato per sabato e primo giugno e sarà trasmesso in prima serata su Rai, l'unica di 10 giugno. Lo spettacolo, prodotto da Antonella Clerici, sarà un evento unico, un lungo viaggio nel melodramma, dedicato alla memoria di Luciano Pavarotti, che vittuò nel teatro areniano nel 1973, 40 anni fa. Mi ha fatto capire come tutto può essere ridimensionato se uno ha passione per il proprio lavoro e per le cose che fa. È un ricordo molto solare e molto sorridente. Abbiamo lavorato parecchi mesi per costruire questo cast e riuscire a vedere insieme nella stessa sera tre artisti, guardavo c'è di Carreras, Classico Domingo, credo che loro ci portino dentro un viaggio dell'opera, nelle più grandi aree, nelle più grandi romanze, che hanno creato poi il mito del melodrama e anche il mito dell'area di Verona. Le aree di Aida, Nabucco, Rigoletto, Traviata saranno rilanciate in tutto il mondo. Lo spettacolo coinvolgerà 500 artisti a tutti i giorni dalla banditura del festival nel centenario. Poi ci sarà la prima del 14 giugno con la nuova Aida che ci porterà nei prossimi cent'anni per la regia alla Fulverbaus, le 58 serate, una stagione lunga con dei gala, con la messa da lei, ma anche con il teatro della Felice, dell'orchestra, il doppio coro, doppia orchestra.